Cronaca, arresti nel Sulcis per droga e furti, operazioni di carabinieri e polizia di Carbonia e Iglesias a contrasto dello spazio di sostanze stupefacenti, Anarcao sequestrati 7 grammi di catamina. L'impegno di Sinistra Ecologia e Libertà per la rinascita di Carbonia, il gruppo politico di Sella ha illustrato il lavoro compiuto sino ad oggi a due anni e mezzo dall'insediamento dell'amministrazione comunale cittadina. Un weekend tra il Giro Tonno e la Laguna Espone, fine settimana di eventi e manifestazioni nelle isole Sucitane, San Pietro e Sant'Antioco, degustazioni, spettacoli musicali, eventi sportivi e tradizioni al sapore di mare. The Dog Day 2, questa mattina ha preso il via Carbonia una giornata interamente dedicata ai cani, tra mobility, ricerca dispersi in superficie ed eventi cinotecnici con obbedienza di base. Bentornati con l'informazione di Canale 40, come avete sentito dai titoli c'è la cronaca in primo piano, iniziamo dai Iglesias, arrestato dai carabinieri dopo aver ceduto metadona ad una ventenne, altri due arresti per furto aggravato effettuati. La notte scorsa in città, dalla polizia, ce ne parla Tamala Pellis. Fermato dai carabinieri per aver ceduto dietro pagamento 20 flaconi di metadone cloridrato ad una ragazza di 20 anni. Con l'accusa di spaccio e di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Iglesias hanno arrestato Vittorio Compagnone, 43 anni del posto disoccupato e con dei precedenti. L'uomo è stato colto dai militari in flagranza di reato subito dopo aver ceduto lo stupefacente. I carabinieri hanno subito bloccato l'uomo e la ragazza e recuperato la sostanza. Il fatto è avvenuto ieri alle 9 del mattino in piazza Oberdan. La giovane è stata denunciata per detenzione di sostanza stupefacente. Per compagnone, il giudice del Tribunale di Cagliari ha convalidato l'arresto e rinviato il dibattimento su richiesta della difesa. All'attività antidroga, nella quale erano impegnati i militari, ha collaborato anche il personale femminile del commissariato della polizia di Iglesias. E proprio gli agenti di questo commissariato la notte scorsa hanno arrestato per furto aggravato due ventenni, Claudio Manca di Cagliari e Volo di Merkotsur, cittadino ucraino, entrambi pregiudicati e domiciliati ad Iglesias. I due sono stati sorpresi dalla polizia mentre si aggiravano tra le auto in sosta in via San Salvatore, in possesso di un giubbotto, libri e documenti. I controlli degli agenti hanno accertato che i due avevano rubato quegli oggetti da una delle vetture parcheggiate. I due uomini sono stati arrestati e trattenuti fino a questa mattina nella Camera di Sicurezza del commissariato. E passiamo adesso alle operazioni dei carabinieri effettuate nel Sulcis. Sentiamo. I carabinieri al lavoro anche nel Sulcis. Ieri mattina a Narcao, i militari della stazione locale di Sant'Adi, grazie all'ausilio di un elicottero proveniente da Elmas, hanno effettuato due distinte perquisizioni nelle abitazioni di due giovani del paese, un 22enne e un 30enne, entrambi disoccupati. Nel primo caso i carabinieri hanno rinvenuto una pianta di marijuana dell'altezza di 13 centimetri, mentre nel secondo una dose di marijuana, una di cocaina, 3,5 grammi di cannabis e 7,2 grammi di ketamina, che nell'ambito di competenza della Compagnia di Carbonia non era mai stata rinvenuta. Un sequestro, quello della ketamina, che secondo quanto riportato dai carabinieri, apre nuovi scenari anche nel Sulcis, soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate e la conseguente apertura delle discoteche del territorio. Il 22enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il 30enne è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora, a Carboni e i dipendenti Nord dell'aliquota al radiomobile, al termine di accertamenti hanno deferito l'autorità giudiziaria in stato di libertà per guida in stato di abbrezza un 53enne di Sant'Antioco. L'uomo, intorno alle 21 di due giorni fa, mentre alla guida della sua auto lungo la satellite 126, ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada. Sottoposto a controllo sanitario, gli è stato riscontrato un tasso alcolico ben sei volte superiore al consentito. Patenti a ritirate, veicolo costretto, affermò amministrativo ai fini della confisca. Infine, a Perdagius, nella notte tra il 29 e il 30 maggio, ladri e ignoti hanno cercato di rubare il motocarro AB50 a varie attrezzature dall'abitazione di un pensionato del paese. I malviventi hanno dovuto desistere perché, sorpresi da un passante, che ha immediatamente dato l'allarme al 112. Ad alcuni giorni di distanza dall'esito dell'elezione europea, che ha decretato una vittoria schiacciante del partito democratico sul Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, siamo andati a conoscere i pareri dei cittadini di Carbonia su un risultato per molti analisti imprevisto. Il servizio. Buongiorno signora, secondo lei perché gli italiani hanno preferito Matteo Renzi a Beppe Grillo? Per il nuovo, perché sembra che ci dà un po' più di speranza per cambiare, buttare, rotamare tutto quello che c'è, che non serve più a niente. E con tutti questi voti, con questo plebiscito che ha avuto a livello elettorale, secondo lei potrà veramente cambiare qualcosa? Se gli altri li aiutano. Dopo il risultato di queste elezioni europee, è fiducioso che qualcosa possa cambiare? Vedendo l'esito delle elezioni, si pensa che Renzi, se non gli mettono il bastone tra le ruote, che qualcosa possa fare, perché le idee sembrerebbero molto valide. Poi, quando sei lì, che sei tutti insieme a metterli tutti d'accordo, ce ne vuole. Questo è l'augurio che uno spera che sia così, perché se non dovesse cambiare niente la situazione, lui dimostrerà di essere peggio di tutti gli altri. Però non credo che sia questo. Come mai, i cittadini hanno scelto Renzi rispetto a Grillo. Si sono voluti fidare per l'ennesima volta? Beh, io questo anche è vero, perché Renzi è l'unica possibilità che abbiamo di poter ribaltare la situazione in Italia. Perché hanno dimostrato tutti di essere dei ladri. Tutti, non ce n'è uno che si distingue. Alla luce del risultato delle elezioni europee e del plebiscito ottenuto da Matteo Renzi, è fiducioso che qualcosa possa cambiare? Realmente? Me lo spero, lo spero solo. No, no. E ti dico perché. Chi è che sta comandando in comune? A Carbonia. Il PD. In regione chi c'è? Il PD. A Roma chi c'è? Il PD. Quindi che non devono trovare scuse e non ne voglio più. Giusto? Perché gli italiani hanno votato Matteo Renzi invece che Beppe Grillo? È una risposta molto facile. Beppe Grillo non è molto fidabile. Visto come lo sento, è quello che dice. Per me, per l'italiano, non è fidabile. E la luce del grande risultato che ha ottenuto Matteo Renzi, quasi un plebiscito, secondo lei potrà veramente cambiare l'Italia? Non è una risposta molto facile. Cambiare l'Italia oggigiorno come ammessa, ci sono altre cose un po' dure per lui. Beh, io non ho preferito Renzi, ho preferito Grillo. Eppure molti italiani hanno votato per Renzi, è un risultato storico, quasi un plebiscito. Sì, sì, io ho votato Grillo. Perché secondo lei c'è stata la vittoria del PD in queste proporzioni? Perché i pensionati hanno dato il voto a lui, i pensionati. E ora, con tutti questi voti, con questo grande voto popolare, secondo lei potrà cambiare qualcosa veramente per il Paese? No, penso proprio di no, guardi. Ancora politica, ieri Sinistra Ecologia e Libertà di Carboni ha tenuto un incontro per illustrare il proprio impegno politico in città e per mostrare le nuove proposte che è in animo di realizzare per il bene di Carboni. In merito vi proponiamo l'intervista realizzata con Matteo Sestu, segretario provinciale di SEL. Intervista di Manolo Muretto. Matteo Sestu, segretario provinciale Sinistra Ecologia e Libertà. Ieri avrete presentato le vostre proposte programmatiche per Carbonia. Sì, noi siamo ormai a metà mandato superato, siamo naturalmente soddisfatti del lavoro che è stato fatto con l'Aggiunta anche in questo bilancio, però ci rendiamo conto di alcune cose che stanno accadendo nella città che sono dei segnali molto preoccupanti per noi, segnali che ci dicono che la città in qualche misura si prende meno cura di se stessa. Allora noi abbiamo messo in campo una serie di iniziative che abbiamo condiviso con il Sindaco alcune sono già partite, altre alle quali stiamo lavorando, per fare in modo che si lavori insieme cittadini e amministrazione alla guida della città e che ci sia questa assunzione di responsabilità da parte delle persone e di tutti i cittadini nella gestione e nella cura della propria città. Alcuni esempi, la lotta alle barriere architettoniche in cui convolgiamo anche i cittadini nella raccolta delle segnalazioni per le domande. Stiamo lavorando, anche grazie al lavoro con tutti gli assessori, l'assessore Marongio, l'assessore Morino, a Morino per quanto riguarda l'istruzione, ad esempio alla creazione di un diario che i bambini delle scuole materne quest'anno i bambini delle scuole materne stanno facendo dei disegni e questi disegni faranno parte di un diario che gli stessi bambini si ritroveranno quando saranno in prima elementare. Questo può sembrare una cosa sciocca ma in realtà è molto importante perché il nostro modello è quello dei paesi scandinavi in cui lo Stato mette a disposizione dei bambini i diari, le penne, tutto l'occorrente per la scuola. E noi vogliamo farlo anche a Carboni a dare un segnale di questo tipo. Il diario con i disegni dei bambini delle scuole materne verrà realizzato e donato dall'amministrazione comunale a quegli stessi bambini che si troveranno in prima elementare. Ma come queste iniziative ve ne sono altre alle quali stiamo pensando, stiamo lavorando e stiamo mettendo in campo. Abbiamo l'impegno da parte del sindaco sulla realizzazione di queste, ce ne sono sulla raccolta dei rifiuti, che deve coinvolgere anche l'impegno di tutti i cittadini. C'è un segnale in direzione ad esempio delle piccole attività commerciali che secondo noi se mettono a disposizione il loro lavoro e il loro impegno per la città devono essere in qualche misura avvantaggiate. Questi sono tutti segnali che ci dicono che cosa. Noi siamo preoccupati per il clima di solitudine, di mancanza di responsabilità da parte dei cittadini, mancanza di reti sociali. La crisi economica ormai non è soltanto economica, è diventata anche sociale, è diventata anche culturale. The Dog Day 2 questa mattina presso il campo comunale di Via Balilla Carboni ha preso il via una giornata interamente dedicata ai cani con esibizioni di mobility, puppy class, ricerche dispersi e altre attività legate agli amici a quattro zampe. C'è da per noi Francesca Rius. Oggi è una manifestazione molto importante in quanto ci sono diverse associazioni che sono riunite e collaborano fra di loro, soprattutto per il benessere animale e cercare di dare molti cani in adozione. In più è la giornata dell'amico cippazione dove ci sono dei veterinari a disposizione in quanto il cane col cippi difficilmente si perde soprattutto perché ritorna a casa avendo il cippi. Senza i cippi è un cane che non si sa doveva finire. Temporaneamente siamo qui a disposizione anche con persone che hanno problemi con dei cani, sia di stati di cuccioli, adulti o quant'altro e eventualmente per l'educazione ci sono dei educatori cinofili che sono a disposizione per poter fare qualcosa per loro. Salvatore, parlando di canili, purtroppo si sente troppo spesso parlare di canili lager o di canili non del tutto a norma. È possibile però rendere un canile a 5 stelle e se è possibile come? Sì, è possibilissimo. È vero che ci sono dei canili lager ma è vero anche che ci sono dei canili dove effettivamente si fa un lavoro serio e di competenza. Io invito a tutti, sia associazioni animalisti, proprietari dei cani e quant'altro a visitare soprattutto i canili, vedere i cani come si trovano, il canile come gestito e come organizzato e soprattutto il canile non deve diventare un turnover per i cani dove effettivamente si dà via un cane e se ne prende un altro. Il canile è un transito dove il cane deve essere recuperato sia che si tratta di un cane malato, di un cane aggressivo, di un cane educato e dopo tutto deve uscire dal canile. I canili servono per questo e invito tutti a visitare i vari canili dove ci sono dei problemi o delle digenze particolari o è denunciare. Oggi ci occuperemo del battesimo della sella per i bambini, per i più piccoli quindi dopo che saliranno sul cavallo faranno un piccolo percorso e gli verrà dato un attestato appunto come battesimo della sella. Noi siamo stati invitati qua oggi perché facciamo parte dell'AMPANA quindi AMPANA, Associazione Nazionale Protezione Animali e Natura Ambiente per la tutela soprattutto sul maltrattamento degli animali e tutela sull'ambiente. Quindi oggi, visto che ci sono gli amici del canile, cani, gatti, cavalli insomma tutto di nostra competenza. Dunque noi oggi operiamo nel settore della protezione civile quindi faremo una piccola dimostrazione della ricerca di un disperso e relativo al trattamento sanitario poi del disperso. Noi daremo prima una piccola dimostrazione di quello che andremo a fare e chiederemo la disponibilità anche di un bambino in modo tale da nascondere proprio uno dei bambini della scuola d'Esca e faremo vedere in questo modo come il cane si comporta quando trova, perché no, anche un bambino che potrebbe essersi perso durante una gita in campagna con i propri genitori. Giro Tonno e la laguna espone un fine settimana l'insegna delle grandi manifestazioni nelle due isole San Pietro e Sant'Antioco. Sentiamo. Un weekend di eventi e manifestazioni nelle due isole sul Citane, San Pietro e Sant'Antioco. Nell'isola Tabarchina la cittadina di Carloforte ha aperto ieri battenti con il Giro Tonno Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno rosso. Gare internazionali tra chef di sei paesi del mondo si sfideranno nel preparare specialità a base di tonno, cotto e crudo pescato nella tonnara più antica del Mediterraneo, quella di San Pietro. I mostri e i prodotti dell'agroalimentare artigianato sardo nella banchina Mahon e degustazioni di specialità Carlofortine come il Couscous e poi dibattiti e incontri sul pesce prelibato, spettacoli musicali, manifestazioni sportive e la Tuna Competition, la gara internazionale di tonno. La manifestazione durerà fino a lunedì ed è organizzata dal Comune, dall'Agenzia Feedback di Palerno e da Sardegna Turismo. Evento dal profumo di mare anche a Sant'Antioco con La Laguna espone. In vetrina, la nautica, lo sport e le attività ludiche. Nell'area del porticello turistico da questo pomeriggio saranno allestiti gli stand espositivi con laboratori artigianali. Ci saranno poi gare di pesca, visite guidate su motovedette delle forze dell'ordine e intrattenimento nei locali del lungomare. La manifestazione, che si svolgerà fino al 2 giugno, è organizzata dall'Associazione Culturale X e dal gruppo Folk Isola di Sant'Antioco. Sagra del Pesce 2014, appuntamento domani alle 12 nel lungomare. Cristoforo Colobo di Portoscuso, la degustazione di pasta, pesce fritto e arrosto, organizzata dal gruppo I Soliti Giovani, sarà gratuita con contributo ed offerta facoltativa. E intanto dal 2 giugno il servizio di bike shading a carbonia sarà definitivamente operativo. Sentiamo. Per andare al via il 2 giugno il servizio di bike shading a carbonia, a partire da quella data sarà possibile acquistare le tessele magnetiche per gli abbonamenti periodici e orari per l'utilizzo delle biciclette, reperibili attraverso il sito www.bicincittà.ottobike.it. L'abbonamento annuale costerà 30 euro, comprensivo di 5 euro di ricarica e 5 euro di copertura assicurativa. Quello mensile 10 euro, con 3 euro di ricarica. Settimanale 8 e 3 euro di ricarica. Giornaliero 5 euro, comprensivo anche in questo caso di una ricarica di 3 euro. L'abbonamento Furryu è acquistabile secondo due modalità. Al costo di 8 euro durerà 24 ore, le biciclette potranno essere utilizzate per 4 ore giornaliere senza telefazione. E al costo di 5 euro, validità 48 ore, utilizzabile per 8 ore. Le tipologie di biciclette sono due, tradizionali e a pedalata assistita. La differenza incide naturalmente sul prezzo di affitto. La tessera per l'utilizzo del sistema con il credito caricato sarà inviata all'indirizzo indicato all'atto della registrazione. L'utente in ogni momento potrà accedere al sito con le sue credenziali per visionare il credito residuo e la disponibilità delle biciclette nelle varie postazioni. Tali funzionalità saranno disponibili anche nell'app dedicata denominata Bici in Città Bip, disponibile sugli store degli smartphone. Il servizio di bike-sharing, attraverso l'installazione di 10 postazioni automatizzate per il noleggio delle biciclette, che saranno in tutto 19, di cui 3 dotate di pedalata assistita, permetterà anche l'utilizzo delle piste ciclabili realizzate lungo via Costituente, nel tratto tra via Granche e Piazza Repubblica, nel centro della città di Carboni e via Mazzini. A breve verranno installate ulteriori colonnine ed altri elementi accessori. Eventuali guasti potranno essere segnalati direttamente dagli utenti, mediante il numero verde 800-456-300, oppure mediante mail info-bicincittà.com. Nuovo riconoscimento ottenuto dal CIC, Centro Italiano della Cultura del Carbone, con sede nella Grande Miniera di Serbariu. TripAdvisor, uno dei principali portali che si occupano di viaggi e turismo, e che raccoglie la recensione dei viaggiatori di tutto il mondo, ha consegnato al Museo del Carbone il certificato di eccellenza 2014. L'incomio è riconosciuto solo alle strutture che con costanza ricevono recensioni eccellenti da parte dei viaggiatori di TripAdvisor. Solo il 10% delle migliori strutture presenti su TripAdvisor ha l'onore di ricevere questo prestigioso premio. Per ricevere un certificato di eccellenza, le strutture sono tenute a mantenere un punteggio complessivo pari o superiore a 4 su 5, secondo la recensione dei viaggiatori. E devono essere presenti sul portale da almeno 12 mesi. Un ulteriore criterio di valutazione è la quantità di recensioni ricevute negli ultimi 12 mesi. Secondo TripAdvisor, il certificato di eccellenza premio alle strutture più apprezzate in tutto il mondo, con il riconoscimento che meritano, sulla base di feedback di coloro che partecipano. Si svolgerà sabato 7 giugno alle 17.30 presso il Carlo Zobori di Carbonia la finalissima della prestigiosa Coppa Santa Barbara, competizione calcistica dedicata alla categoria allievi. Le semifinali si disputeranno tra domenica e lunedì 2 giugno nello stadio di Carbonia. Domani alle 17.30 si affronteranno la Mineralia e il Selarjus, mentre lunedì, sempre alle 17.30, il Don Bosco e l'Oristanese. Le vincenti si contenderanno il trofeo 2014. Il nostro telegiornale finisce qui, però vi ricordo che a conclusione delle due edizioni del telegiornale andrà in onda l'irriverente, il programma condotto da Manolo Mureddu che questa settimana ha il titolo La burocrazia uccide il Sulcis. Buona visione. Grazie e arrivederci. La giornata di domenica sarà caratterizzata da nubi di passaggio. Il vento soffrirà da ovest-nord-ovest con intensità di 8 km orari. Possibili raffiche fino a 12 km orari. Temperature minime comprese tra i 10 e 15 gradi e massime comprese tra i 21 e i 27 gradi.